Siamo in un momento difficile, comprensibile che le persone vogliano protestare, ma non bisogna dimenticare che le restrizioni servono per contenere il contagio da Covid. La rabbia, gli assembramenti e la violenza possono solo diventare occasioni pretestuose e ideali per chi ha interesse ad alimentare tensioni. E non è da trascurare che le manifestazioni che si svolgono senza osservare le norme anti-Covid possano diventare terreno fertile per il virus. Ne è convinto anche il presidente di Confindustria Salerno, Andrea Prete, che ripone fiducia nelle misure economiche che saranno adottate, anche se ha rimarcato ai nostri microfoni, si farà fronte a questa crisi se si spenderanno bene i soldi che sono debiti. Non esistono soluzioni semplici, sono tempi difficili e bisogna salvare la nostra economia. Frattanto bisogna essere medici di se stessi per scongiurare i ricoveri in ospedale e le strutture sanitarie piene. Guardi, condivido in pieno quelle che sono le sue considerazioni iniziali. Io, come sapre, rappresento in Confindustria, ovviamente il mondo dell'industria, della manifattura, ma anche col ruolo di presidente della Camera dei Commerci, in qualche maniera ho un ruolo di rappresentanza di tutti i settori economici. Ebbene, credo che dobbiamo essere molto chiari su questo aspetto. Prima dell'economia viene la salute. Senza salute non c'è economia buona. Questo che vuol dire? Vuol dire che noi non possiamo dimenticare dello stato delle cose. Abbiamo una pandemia che sta prendendo piede molto più della primavera scorsa. Abbiamo un numero di casi notevolissimi anche nella nostra regione e nella nostra provincia. Questi casi non sono numeri, sono morti. E quando al numero dei morti affianchiamo il nome e il nome delle persone, forse possiamo avere una maggiore sensibilità rispetto a questo problema. Perché se quel nome di quella persona è un nome a noi noto, probabilmente ci tocca un po' di più che dire che c'è stato un morto. Dico questo perché ho la sensazione che spesso si assistia sottovalutando il problema. Vede, noi abbiamo anche la dimostrazione che con i comportamenti virtuosi del lockdown di marzo e aprile, il contagio è stato contenuto. Abbiamo raggiunto quasi pochissimi casi giornalieri nella regione Campania. Ora invece mi sembra un po' tutto fuori controllo. Dal ritorno dopo l'estate, delle vacanze, poi l'apertura delle scuole, tutta una serie di fattori assolutamente comprensibili, abbiamo però una pandemia che si sta evolvendo in maniera pericolosissima. I numeri sono 2.600, ma ricordiamoci che 2.600 è un numero che si ripete ogni giorno e può tendere ad aumentare. Quindi forse a volte verrebbe la pena di dire 10.000 alla settimana, piuttosto che 50.000 al mese, perché questi sono i numeri poi alla fine. E allora bisogna prendere coscienza di questo. Ovviamente noi ieri abbiamo avuto un incontro molto interessante con l'onorevole Piero De Luca, ma in Camera di Commercio, con tutte le associazioni di tutte le categorie, quindi artigianato, industria, agricoltura, commercio. Ed è stato un incontro molto positivo, perché se è dato per scontato che la priorità è la salute, ovviamente gli esercendi che possono essere toccati nella loro attività dalle chiusure obbligatorie, devono avere un ristoro che sia congruo e rapido. E su questo stiamo attendendo anche quello che il governo proprio in queste ore pensa di fare. Forse proprio su questo però gli operatori economici hanno scarsa fiducia, ritengono che i sussidi che potrebbero arrivare potrebbero non essere reali e facilmente solvibili. Guardi, intanto vediamo che cosa avviene fuori, poi si protesta eventualmente, ma in assoluto la protesta di questi temi non funziona. Non funziona per un motivo semplice, perché la protesta si concretizza in un assembramento di persone. E capiamoci bene, qua non è che si fanno male solo le persone che si assembrano, che scendemente mettono a rischio la propria salute, pensando, potendo prendere l'epidemia. Sappiamo tutti che più assembramenti ci sono e tutti siamo potenzialmente, attraverso l'amico dell'amico dell'amico, potenziali vittime di quell'assembramento. Quindi attenzione, non giocate con la vita degli altri, perché state giocando con la vita degli altri, perché fino a quando uno gioca con la propria vita e vuole scalare a piedi nudi in Everest, va benissimo, lo faccia. Ma quando però quell'atteggiamento comporta il rischio della salute degli altri, credo che vada, e in questo spero che le forze dell'ordine facciano quanto devono, vadano represse certe manifestazioni che si sono dimostrate esclusivamente violente.